Eccoci pronti per una nuova avventura, Imperia TV, per una Liguria, fuori dal comune. Una storia, una passione, una famiglia. Francesco e Lorella Zunino e tanti altri professionisti. Dal 1986 sempre con voi. E oggi, 2022, si riparte con nuove energie, tante novità. Diventa ambasciatore della tua città. Come prima, più di prima. Che la web avventura abbia inizio. Grazie a tutti.